buongiorno a todos siamo in viaggio come potete vedere saluta buongiorno a tutti da parte del marocchino abdulaziz domani l'ho soprannominato così perché vedete la barbacuca ma domani mattina la fa qui dietro c'è il topolino e niente noi stiamo andando al carosello di carugate un centro commerciale per chi non è da queste parti dove ci sono vari negozi tra google airsteiger la mac eccetera eccetera e quindi faremo un po di acquisti come al solito vero per la gioia di marco e niente noi appunto ci stiamo accingendo lì ci vediamo poi dopo e facciamo vedere vari negozi eccetera eccetera a dopo allora come potete vedere siamo appena arrivati non so se c'è qualcuno di voi che in zona potrebbe conoscerlo comunque questo è il carosello non so se si riesce a vedere e niente appunto un centro commerciale io appena entro la prima tappa sarà klerz e poi facciamo un salto da tiger e niente spero di trovare gli unicorni della tokidoki dato che con la mia gran sfortuna che ho non trovo mai niente di ciò che voglio comunque niente noi ci vediamo appena saliamo su allora eccoci qua allora qui potete vedere c'è il medio nord questo è la lego che è aperto da poco e invece qui c'è bijou brigitte allora questo appunto il centro commerciale noi ci stiamo dirigendo da klerz che è qui giù e niente noi andiamo da klerz e ci vediamo dopo ma dai ecco klerz adesso entriamo non riprendo dentro perché penso sia cioè non si può adesso mi riprendo un po' la panoramica generale così e niente noi entriamo prendo quello che devo prendere ecco una cosa vedi tu scordi delle cose più importanti questo è probabilmente il klerz più grande che c'è perlomeno presumo in lombardia no non credo vabbè solo klerz gli altri sono dei piccolini questo è più grande che c'è solo klerz adesso entriamo andiamo a vedere cosa c'è eccoci di nuovo stiamo andando lì che è tiger abbiamo preso qualcosina da klerz e niente eccoci di nuovo stiamo praticamente uscendo abbiamo fatto un po di acquisti poi a casa vi faremo un video cioè gireremo i video acquisti che ne è più di uno e niente tu vuoi vedere qualcosa? faccio dire un po di mal di mare no niente ho preso un po di roba che appunto poi vi farò vedere ovviamente non li facciamo vedere domani nel senso nella diretta di domani altrimenti non giriamo più video praticamente quindi faremo poi appunto registreremo i video hall dove vi facciamo vedere appunto quello che abbiamo preso oppure separate più parti vediamo comunque valuteremo noi allora per far vedere tutto bisogna farne più di uno sicuramente perchè sennò sta lì un'ora sta lì un'ora quindi e niente dai noi ci vediamo al prossimo video quindi sicuramente sarà appunto video hall e niente un saluto ciao poi c'è la guida ovviamente esatto e niente alla prossima ciao ciao ciao